Innanzitutto sono contentissimo di essere qui e di far parte del Catanzaro Calcio. Quando mi è stato prospettato questo progetto l'ho accolto subito con grande entusiasmo anche perché ho lavorato già con il mister ed è una garanzia per me. Poi giocare in Calabria è un valore doppio perché io sono calabrese, sono di Siderno, quindi ti viene da dare un qualcosa in più perché noi solo sentiamo cosa vuol dire essere calabresi, quindi è una cosa bellissima per me. Erano tanti anni che sono in giro per l'Italia, se non sbaglio sono passati 12 o 13 anni l'ultima volta che ho giocato in Calabria, quindi sono contentissimo e ora inizieremo questo percorso che sarà difficile, però ci metteremo tutto l'impegno perché ci teniamo tutti quanti a fare bene e portare più in alto possibile il Catanzaro.